Maaa... C'è... Hai fin'altro anche per il ritardo, eh? Fin'altro. No, ma... cioè, ero giusto. Anzi, era proprio qui. Quindi c'è bisogna... Sì, sì. Vabbè, perciò si è piaciuto che tu non hai fatto roba. Eh, sì, molto, l'anico piccola. Ah, ok. E' diverso, oggi, proprio. L'ho venuto molto prima. Vabbè, sei... Enzi, che sei... Inzi? a destra a destra a me si è preciso preciso ok andiamo a piccone va 300 gli danno in tecchia è fattibile ok però vedi che al giro di finale ci arrivo molto di più non molto in primo avanti vediamo se devo ripendere sul muro invisibile eeeh no vabbè queste sfide sono possibili beh ci penso d'accordo non ti puoi spingere che devo fare la sinistra sinistra dove visita il burger che sta vicino al parco un dinosauro e la testa con la d delle sali passano in una stessa partita di 2 secondi mai più sta mappa basta 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 poi eliminazioni 2 secondi 60 ha aumentato 5 eliminazioni mentre guidi un veicolo ma 2 e 60 precisi ho tolto 3 secondi oh no guarda li però guarda al secondo giro 3 secondi vabbè vabbè prima 2 secondi non 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 non